Il 27 dicembre, la storica firma a Palazzo Giustiniani. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla.